Ciao a tutti ragazze e ragazze, bentornati in questo nuovo video, io mi chiamo Serena e questo è il mio canale Benvenuti nel canale di serie 06 Allora, io mi chiamo Serena, ho 12 anni, vivo a Broni Pratico ginnastica artistica e mi ho fatto nuoto con la scuola comunque Vado in seconda media, ho 12 anni come ho detto E se mi vedete così perché gomio l'occhio E in questo caso perché di mia mamma, ma parto i casi Questo qua non sarà un video molto lungo come avete visto E poi farò più avanti un video con il risultato di meno Vi mando un bacione e al prossimo video di serie 06